Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Riccardo Ricch che vuole che parli del film di Jörg Lantimos del 2019, La Favorita. Favorita, un film ambientato nel XVIII secolo a corte della regina d'Inghilterra, che è una donna instabile, debole, malata e che ha soprattutto un amante segreto a una donna, interpretata benissimo da Raquel Waits, ovvero Lady Sarah, che vuole continuare la guerra con la Francia e che riesce a comandare la nostra regina un po' come vuole. All'inizio sembra che chi gli vada a riremi veramente contro sia il politico robertale, invece poi piano piano nella vita della nostra regina e della nostra favorita appunto entra Abigail Masham, una lontana parente di Lady Sarah, che però è di basso rango sociale e che piano piano farà la sua scalata. Il film è magnifico a livello di messa in scena, questo di Lantimos che abbandona la fantascienza, abbandona il surreale per renderci in realtà partecipi di una storia vera e lo fa attraverso una sbilencatura delle immagini, meravigliosa, un uso incredibile del grand'angolo, dei costumi delle scenografie straordinario, come ho detto una Raquel Waits, un Emma Stone eccezionale, un film veramente bellissimo, una lotta incredibile in questo mondo patriarcale, però come governato da una donna, piena di capricci come la nostra regina, piena di cambiamenti dei dei, un personaggio veramente difficile, antipatico e anche a tratti disgustoso, seppur faccia pena in alcune sue situazioni. Meraviglioso poi come sono descritte le due gareggianti per essere la favorita della regina, veramente meraviglioso, le scene anche sessuali, l'idea appunto di questa regina omosessuale, lesbica, che gradisce non poco le vicinanze di Raquel Waits, ma poi gradirà anche quelle di Emma Stone, quindi un film che fa del dualismo, che fa del racconto storico, che fa della morale del periodo che non è stata mai abbandonata, di quelle reiette assurde, insomma un racconto tutto al femminile, che racconta appunto le donne dell'epoca come persone che avevano bisogno di fare dieci volte di più degli uomini, come che la loro vita fosse un persorso fatto di trappole, di insidie, tutte da evitare, e quindi anche la spietatezza in un certo senso, la volontà, la forza e volontà eccessiva di queste tre donne viene chiaramente messa davanti allo spettatore, ma viene anche giustificata da un regista che sa appunto come le donne passavano quel periodo. Insomma un film per me eccezionale, allegro anche in certi punti, e che descrive quest'Anna più come una bambinetta mai cresciuta appunto, che però può fare quello che vuole proprio perché la regina e gli altri si devono adeguare, un film sulle classi sociali enorme, un film enorme sull'amicizia, un film enorme appunto sul potere, su chi lo vuole gestire e come deve essere gestito. Berrande Lantimos che qui firma una delle sue opere migliori, un film impervivere come sempre per il greco.